Ciao ragazzi, ben ritrovati all'interno del canale fitness di My Personal Trainer. L'allenamento che vi presenterò oggi riguarda un problema che sta molto a cuore a tantissime donne. Infatti vi mostrerò alcuni esercizi fondamentali per combattere il grasso. Che cosa ci occorre per questo allenamento? Abbiamo bisogno del nostro immancabile tappetino, di due manubri e del stand bag. Se per caso a casa non avete due manubri potete utilizzare delle bottiglie d'acqua da un litro e mezzo o da due litri. E invece al posto del stand bag potete usare o una sacca con all'interno dei vestiti o altrimenti potete eseguire il lavoro a corpo libero. Diciamo sarà sempre efficace ma andrete a dare meno carico in quanto io il stand bag che utilizzo all'interno di questo allenamento pesa 5 kg. Quindi potete anche costruirvela a casa voi con una sacca normalissima da palestra, ci mettete dentro qualcosa che è da peso e così avete realizzato anche voi il stand bag casalingo. Io imposterò il mio timer sempre su 30 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa. Però vi ricordo sempre che se 10 secondi di pausa sono troppo pochi aumentate pure la pausa, se no seguite me all'interno del video. Buon allenamento, siamo pronti per partire, andiamo! Buon allenamento, siamo pronti per partire. Buon allenamento, siamo pronti per partire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.